5 persone sono state arrestate dalla polizia a Napoli perché sorprese a scaricare da un tir risultato oggetto di rapina. La merce contenuta era prevalentemente capi di abbigliamento di note griff dell'alta moda per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. L'intervento degli agenti a San Giovanni a Teduccio, zona orientale della città. I malviventi e il mezzo erano nei pressi di un deposito. Il tir era stato preso qualche ora prima e l'autista era stato sequestrato e poi rilasciato nella zona di Castelvolturno in provincia di Caserta. L'uomo era nel commissariato locale a sporgere denuncia. Le indagini proseguono ancora per accertare se i cinque arrestati abbiano preso parte anche alla rapina. All'atto della rapina queste persone hanno tra le altre cose sequestrato l'autotrasportatore che è stato poi rilasciato su una spiaggia di Castelvolturno dalla quale da solo a piedi ha raggiunto il commissariato di zona. Gli stessi, tra le altre cose, erano muniti di un disturbatore di frequenze che utilizzavano per inibire la localizzazione satellitare del tir. I nostri agenti hanno anche sequestrato le due autovetture utilizzate per la rapina. Al momento sono in corso delle indagini per verificare il grado di partecipazione di ciascuno alla rapina e soprattutto per verificare eventualmente la possibilità di ulteriori basisti e fiancheggiatori.